Perché c'era nascosta Anthony Myers quando in realtà sta giocando alla grande? Eh non so, veramente non so, Myers ha un... o qui? Contatto diretto e... Ex giocatore di football, forse tutti e due. Stan, the man! Stan, il giocatore più spettacolare ovviamente della slam ball. Vediamo qui. E la va a pigiare! Ecco i highlights che stiamo vedendo. 7 secondi, alla metà campo. Calvin Patterson. Ecco Patterson ancora. Deve saltare dentro il trapolino, il tempo sta scadendo. Attenzione, perciò su lui. Mamma mia che vibrata! Mamma mia! Puntata, stava a vedere brutta scelta invece di andare... Terzo quarto qui, abbiamo 5.53 da giocare, appena 6 minuti. Prima fase era due tempi di 8 minuti, adesso quattro tempi di 6. E via Fleccia, Sam Jones. Sam Jones! Oh, a me piace questa tecnica. Errore però nell'assistema Myers. Però hanno 15 secondi, bisogna scegliere. Sam Jones! Lui! No! Fleccia non arriva! Via subito in contropiede! The Riders, attenzione! L'apertura! Patterson! No! Deviato! Deviato, deviato! La muraglia! Assolutamente! Il contatto permesso se tu hai paraggiato. Varei entrare il trampolino, non è permesso. Dentro no! No, ancora! Via! Possono scappare! E vanno! Guardate il punteggio! Attenzione! Fleccia! Fleccia! Il tuo giocatore è bravissimo, lo è super stentato. È splendido! Non possono far fallo a paleggitore. Tecniche nuove che abbiamo visto, diciamo, che stanno facendo, che quando c'è pausa da tre punti ancora... Joe Coca! Di chiaro, origine italiana. Joe Coca! Coca! Con due C sarebbe qui. Però sembra Joe Coca! Attenzione! Esatto, attenzione! Sam Jones, buona!